Il prototipo B-MAX anticipa per Ford la piccola monovolume con le porte posteriori scorrevoli e i cinque posti. In poco più di 4 metri si concentrano kinetic design, interni versatili e un sofisticato motore turbo EcoBoost da un litro. Le dimensioni esterne restano quelle tipiche di Ford Fiesta, che si presenta a Ginevra con il nuovo allestimento Sport. Il 1.6 sotto il cofano sviluppa 134 cavalli e offre alla Fiesta prestazioni in linea con i grintosi colori della carrozzeria, il blu e il bianco come nelle competizioni. Ad anticipare lo stile della futura Couga destinata ad Europa e America, ci pensa a Ford Vertrek Concept, SUV medio che entrerà in produzione nel 2012. Il versante Eco sostenibile è rappresentato da un trio di prototipi. L'importante Ford Focus elettrica e la media a batterie che sarà in vendita il prossimo anno, mentre il motore a benzina e l'elettrico si affiancano su C-Max Ibrida e C-Max Energy. Entrambe saranno vendute nel 2013 con doppia alimentazione e la possibilità per la Energy di fare il pieno da una comune presa di corrente.